È l'anno della svolta, quello in cui oltre la metà dei comuni abruzzesi possono a buon diritto definirsi ricicloni. Il 2018, secondo Lega Ambiente, segna il giro di boa e consente di guardare alla meta con maggiore fiducia, anche se bisogna fare di più, soprattutto considerando le percentuali relative alle quattro province abruzzesi. La performance peggiore è quella offerta da Pescara, ultima in graduatoria per raccolta differenziata, con il 41,9%. Al primo posto c'è la provincia di Chieti con il 67,1%, seguita da Teramo con il 63,2% e dall'Aquila con il 50,3%. Finalmente certifichiamo il giro di boa. Oltre il 50% dei comuni abruzzesi sono comuni ricicloni, quindi hanno superato la fatidica soglia del 65% della raccolta differenziata e circa 60 comuni sono addirittura rifiuti fini, nel senso che sono virtuosi e hanno un secco residuo sotto i 75 kg medio per abitante. L'importante è continuare in questa direzione perché a livello provinciale poi questa ridistribuzione ha valori diversi. Pescara è la criticità più alta e deve guadagnare oltre un 20% di punteggio per rassessarsi anche lei nei limiti di legge. Quindi sicuramente Pescara rimane la sfida vera dell'Abruzzo. Tenendo presente che nella proiezione del primo semestre 2018 ci avviciniamo al 62%, portando dentro le grandi città noi andremo verso quell'obiettivo che il piano stesso nuovo della regione Abruzzo proietta oltre il 65% già nel 2020. Quindi questo percorso sulla raccolta differenziata possiamo dire che è un percorso buono. Chiediamo di più alla regione soprattutto dal punto di vista della riduzione e quindi del cambiamento anche degli stili di vita delle persone nell'utilizzo di determinati materiali. Ecco perché oggi lanciamo il tema dell'Abruzzo libero dalla plastica. Proprio perché riducendo questi imballaggi ed eliminando l'useggetta possiamo contribuire ulteriormente a migliorare queste performance. Sicuramente questo protocollo rappresenta un'ottima opportunità perché significa già cambiare nel piccolo a modi paese le sagre, non utilizzare più la plastica che poi è un danno enorme anche per i nostri mari. Grazie. 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 Grazie.